Buongiorno, sono Roberto Rossignoli e vi do il benvenuto a questa nuova edizione sull'aggiornamento mensile sui mercati globali. Nell'ultimo periodo i mercati si sono mossi con un andamento più volatile rispetto al passato recente. Questa dinamica che avevamo anticipato negli scorsi mesi era in un certo senso prevedibile, con molti dei nodi che riguardano l'economia globale che stanno venendo al pettine. Ci teniamo a sottolineare che il contesto di fondo continua ad essere di crescita economica e anche nell'ultimo mese le performance finali dei portafogli sono sostanzialmente invariate. Il principale elemento di preoccupazione è stato ovviamente la quarta andata della pandemia e l'emergenza della variante Omicron. I mercati hanno già reagito in maniera piuttosto bruscamente spaventati dalla prospettiva che questa nuova variante possa rivelarsi difficilmente controllabile. I primi dati per ora tranquillizzano su questa nuova versione del Covid in quanto non è eccessivamente pericolosa dal punto di vista della salute anche se non è da escludibile il fatto che la campagna vaccinale vada in qualche modo accelerata, ripensata, resa più strettiva. La reazione dei mercati ci ricorda come la prospettiva di crescita economica sia ancora il driver fondamentale delle performance. E questa non è affatto una brutta notizia. Negli ultimi due anni l'economia globale ha dato una prova di grande forza costruendo le infrastrutture per continuare a operare anche in una situazione eccezionale come quelle delle quarantene e della pandemia. Nel 2021 si stima che la crescita reale al netto dell'inflazione sia stata del 6% e per il 2022 si stima un velo di crescita globale del 5%. Gli utili sono previsti in crescita nel 2022 del 20% in tutte le principali aree geografiche e per ora scenari recessivi appaiono estremamente remoti. Quindi continuiamo a ritenere che l'azionario abbia ancora margini di crescita nel medio termine e non abbiamo ancora ridotto il rischio dei portafogli. Ovviamente continuiamo a ragionare su come rendere la nostra esposizione ancora più solida in una fase che potrebbe rivelarsi ancora più volatile. L'ultimo mese ha visto la riconferma di Jerome Powell alla guida della Federal Reserve. Non è certo nostro compito dare le pagelle ai banchieri centrali ma possiamo dire che Powell si è trovato a gestire in maniera efficace una situazione inedita sostenendo l'economia e i mercati scrivendo una nuova pagina del manuale della politica monetaria. L'elezione di Powell non è arrivata senza polemiche, senza dubbi. La parte più progressista del Partito Democratico, che è quello che sostiene l'attuale presidente Biden, era infatti a favore della candidatura di Lyle Brynard, già membro del comitato decisionale della Federal Reserve ma sostenitrice di una politica monetaria più progressista, potremmo dire. Quindi in un certo senso la decisione del presidente degli Stati Uniti è stata quindi di optare per la continuazione di una normalizzazione della politica monetaria evitando nuovi periodi di sperimentazione, quindi dando continuità ai mercati. Le implicazioni di questa scelta per ora sembrano abbastanza neutre. In seguito alla vittoria del candidato, potremmo dire più falco, tradizionale, i mercati si sono riposizionati per due rialzi dei tassi di interesse entro l'anno prossimo. Anche se la futura direzione della politica monetaria sembra per ora tutt'altro che chiara. Continuiamo a notare infatti una grande dispersione nelle previsioni di vari operatori, economisti, investitori e analisti, sulle prossime mosse della Federal Reserve e delle altre banche centrali. Questo a nostro avviso rappresenta un rischio perché ricordiamo che la forward guidance, ossia quella capacità delle banche centrali di comunicare chiaramente e indirizzare i mercati verso le proprie decisioni, è stato un elemento di stabilità fondamentale per i mercati negli anni passati. Ora che effettivamente inflazione e disoccupazione giustificherebbero un percorso più restrittivo della politica monetaria, lo vediamo dai numeri, capiremo invece se la flessibilità che i banchieri si sono ritagliati nell'ultimo anno e mezzo sarà efficace per continuare a sostenere l'economia oppure si rivelerà un boomerang. La crescita dei prezzi è ormai considerata strutturale. Il forte rally delle materie prime ha compromesso tutte le previsioni dei banchieri centrali, che fino a poche settimane fa continuavano a insistere sul fenomeno di transitorietà dell'inflazione. A ottobre invece l'andamento dei prezzi si è continuato ad assestare su livelli molto alti in Europa, 4,9%, negli Stati Uniti 6%, i più alti dagli anni 90. Anche se, sottolineiamo, un grande contributo di questi aumenti dei prezzi deriva dall'energia e delle altre materie prime, che sono per definizione componenti molto volatile e che siamo fiduziosi potranno esaurirsi come contributo l'anno prossimo. A prescindere da ogni previsione è interessante capire come questa dinamica di un'inflazione forte, quindi relativamente nuova, si inserisca nella nostra visione delle asset class. Ovviamente siamo convinti che l'inflazione sia per definizione negativa per le obbligazioni, in quanto porta a rialzi tassi di interesse e fa perdere in conto capitale. Invece l'effetto sull'investimento azionario è più incerto. Noi pensiamo che per il momento le azioni possano continuare ad offrire una copertura accettabile contro questo rischio, il rischio dell'inflazione, perché le aziende quotate possono aumentare i prezzi e i ricavi a fronte di un aumento dei costi. Questo ragionamento ovviamente resta valido fino a quando l'inflazione non è talmente forte da, uno, compromettere la crescita economica stesso e due, obbligare le banche centrali ad agire, stringendo i cordoni della politica monetaria. Fatte queste considerazioni possiamo fare dei distinguo anche all'interno del mondo azionario. Ci sono aziende che riescono a gestire meglio la differenza tra l'inflazione dei costi e l'inflazione dei ricavi, aziende che invece soccombano. Ci sono aziende quindi come quelle grosse, quelle quotate, quelle quality, che quindi hanno un margine lordo, un ROI molto forte, che possono sostenere meglio questo nuovo scenario economico. Le grandi aziende possono infatti negoziare in modo più aggressivo con i propri fornitori e hanno di solito aree di business più diversificate e quindi forse meno esposte al rischio di inflazione. Quindi, come abbiamo già detto nella prima domanda, come Monifarm abbiamo per ora mantenuto la disposizione nazionale invariata, riflettendo quindi l'idea che l'inflazione per ora non è un rischio per l'azionario. Ovviamente continuiamo a ragionare e a ripensare il nostro posizionamento azionario in funzione di questa nuova variabile economica. Anche per questo mese l'aggiornamento è finito. Vi ringrazio per averti seguito con attenzione e vi ricordo che se avete un dubbio sul quattro di questo video o su qualsiasi altro tema economico finanziario o sul vostro portafoglio non esitate a rivolgervi al vostro consulente di riferimento. Grazie. Grazie.